Abbiamo obbedito a degli ordini ed oggi siamo ancora qui presenti. Abbiamo mantenuto una parola, quella che c'era stata chiesta di mantenere. E che ancora con dignità e onore per la propria nazione, onore per tutti i soldati italiani. Due soldati che possono essere chiunque al mondo. Desidero non far mancare una parola per i nostri due Marò. I Marò sono stati venduti per accordi economici di un anno e mezzo addietro. Ho detto da tempo cosa bisogna fare, interrompere i rapporti diplomatici con l'India. Lo storico e il giudice hanno il dovere di accettare un fatto. Io credo che raccontare la realtà con rigore sia l'unico modo. Questa è una storia che fa paura. Una di quelle storie in cui ci si ritrova al centro di un intero universo sconosciuto, nero e misterioso.